Neanche il tempo di mettere a fuoco quello che si sono scambiati l'Alto Iri, Crocetta e Lupo, ed ecco tornare all'attenzione fra lo stesso Presidente della Regione e il Segretario del PD. Da un lato i sei deputati del megafono a Lars, che hanno detto no alla richiesta di sciogliere il movimento avanzato dal partito. Dall'alto lo stesso Lupo, che ha convinto la Commissione regionale di garanzia ad attivarsi contro gli iscritti al PD che aderiscono al megafono, ma anche contro gli assessori che si sono rifiutati di lasciare alla Giunta regionale. Il Segretario del PD ha però cercato di rimanere a metà strada, nel senso di definire come fatto positivo l'iscrizione di Crocetta al gruppo PD, oltre alla decisione dello stesso Crocetta di annullare il dibattito d'aula sullo stato della maggioranza. Sembra il segnale di una trattativa già avviata, anche se le parti al momento non si sbilanciano. Piuttosto, in queste ore c'è da segnalare un annuncio di querela da parte dell'UJAL, ovvero l'ente di formazione Sicilia, nei confronti del Presidente Crocetta e dell'assessore regionale Nell'Issilabre. Siamo stanchi, si legge in una nota dello stesso ente di formazione, di ricevere accuse false e insulti gratuiti.